Sono davanti alla tua porta, vestito in modo impeccabile e con un mazzo di gardenie in mano. Ho intenzione di suonare, di attendere qualche secondo per vedere apparire la tua testa nella cornice della porta d'ingresso con un'espressione di cinica sorpresa, perché sappiamo entrambi che mi stai aspettando. Ho intenzione di entrare, buonasera come stai, fare il primo passo, il tappeto bianco, la poltrona, un caffè, sigarette turche sul tavolo, lodi per il buon gusto nella scelta del portacenere e delle abominevoli riproduzioni di Picasso. C'è qualcosa di marziale nel gesto di cercare con l'indice il pulsante nero del campanello, di entrare in contatto con la superficie di bachelite, di premere con una certa sensualità per poi rendersi conto che non si sente alcun suono. Il dito ripete l'operazione un po' più velocemente, stavolta preme con maggiore forza il campanello, lo tiene schiacciato per qualche secondo, ma non si ode nulla. Deduzione immediata, paranoia dei fili elettrici. Allora indietreggio 20 centimetri, mi aggiusto il nodo della cravatta, controllo la simmetria del mazzo di gardenie che iniziano già a dar mostra di instabilità all'interno del loro involucro e piego le dita della mano destra con un movimento che comincia dalle prime falangi finché la mano non adotta una volenterosa posizione a chiocciola. Prendo la rincorsa, o meglio la mia mano indietreggia fino a restare paralizzata da una specie di muraglia d'aria che le impedisce un maggiore spostamento e poi si appresta a colpire la superficie bianca della porta. Quando la mano è a pochissimi millimetri si blocca e allora io penso a tutte le possibilità. Può darsi che il rumore improvvisto, toc toc, ti causi un improvviso spavento. La terribile sensazione di pensare a un ospite inatteso, di intuire l'arrivo di un ricordo sepolto già da molto tempo. È la possibilità che tu lasci cadere il vaso di cristallo che sicuramente hai in mano aspettando l'arrivo delle gardenie promesse. Può anche darsi che la mia mano acquisti una forza infinita e che al secondo toc sfondi la porta con il conseguente rumore di schegge di legno che cadono sull'inoleum. o semplicemente che a causa di manchevolezze dell'impresa edile la porta crolli giù fra le recriminazioni dei tuoi vicini che a quel punto uscirebbero nel corridoio nei loro bei pigiami e imprecando mi ricorderebbero che questa è un'ora di decoroso riposo. In mezzo a tanti cavilli la mia mano trema e scossa dall'incertezza mi sembra di intuire nel polso una specie di rictus di spavento che in fondo è anche autocompassione perché questo mi accade ogni volta che tendo di suonare alla tua porta. Così le gardenie invecchiano in pochi secondi nel loro involucro trasparente e quando quella bocca che mi risputa nell'umida solitudine della strada e mi avvio con la testa sprofondata tra le spalle provando ancora una volta la vergogna della sconfitta, posso sentire chiaramente lassù il tuo pianto per le gardenie assenti.